Puntata numero 16, ciao Massimo. Oggi la domanda è, retorica, si possono promuovere, ma nessuno sa, si possono promuovere i post dei profili personali? Allora, ovviamente se la risposta fosse no, non saremmo qui. Allora, come nasce tutto? Tutto nasce grazie a un nostro amato ascoltatore, che ci ha posto una domanda per una sua attività. Qual era la situazione reale? Adesso, se mi condividi lo schermo, allora, intanto te lo condivido io, così almeno iniziamo a fare un ragionamento generale davanti allo schermo, così si vede esattamente la situazione. Allora, partiamo da una situazione tipo, allora, lasciamo perdere per il momento le aziende strutturate che hanno una company page, ok? Quindi, loro possono fare un'attività di brand position sulla company page, potranno anche loro utilizzare i profili personali, però strategicamente è, diciamo, una delle opzioni. Ma i liberi professionisti e chi si è costruito tutto questo tempo un personal brand su LinkedIn, che lavora tutto con il suo nome e cognome, che però ha creato la company page, perché è importante crearla. Uno, perché se non la crei te, rischi che te la crei automaticamente LinkedIn e non la gestisci. Due, perché magari pensavi di utilizzarla per l'advertising. Qual è però il problema? È che se tu lo vai a creare con l'advertising, rischi di promuovere la company page. Questa è la classica situazione che è un po' anche la mia. Ho il mio profilo personale, massimo vecchio, tipico, e poi ho la mia company page, dove c'è il mio loghetto, eccetera. Bene, fino ad ora, ogni volta che andavamo, cercavamo di fare dell'advertising. Cioè, advertising è non necessariamente per creare lead o spazzolari del genere, ma anche solo per diffondere maggiormente i nostri contenuti su un target specifico. Dovevamo farlo a nome e con contenuti della company page. E questo che cosa causava? Da una parte, alcuni professionisti dicevano sì, ma io ho lavorato tutto l'anno per far crescere il mio profilo personale, ma ando quella, non c'ho contenuti, c'ho tre post in croce, come si dice in Toscana, sulla company page, non è strutturata, non c'ho niente di che, non ci lavoro bene, e se la gente va a vedere la mia company page, non è il mio biglietto da visita su LinkedIn, perché io sono sul profilo personale. Allora, che cosa è successo da un po' di tempo? E perché ne parliamo solo ora? Ne parliamo solo ora perché l'ho sperimentato, e quindi è giusto iniziare a vedere i risultati. Che quando si andava a creare una campagna advertising, apro e chiudo una parentesi, fare advertising con il profilo personale devi sempre comunque passare da un account advertising collegato alla company page di cui tu devi essere dipendente o in questo caso, meglio ancora, amministratore. Quindi la cosa fondamentale è che devi comunque conoscere le regole delle LinkedIn in ads, cioè come funzionano, le tipologie, come si ricerca, eccetera. Quindi non c'è il pulsantino che non andrebbe mai usato come su Facebook. Promuovi. Perché io ce l'ho il Promuovi, ma ce l'ho sui post della company page. Ok? Vedi, io ce l'ho. Promuovi. Posso promuovere quelli della company page. Andavo qui e mi si apriva la versione del Promuovi. Ma attenzione, sono sulla company page. Su quelli personali, quando andate a vedere i post, ho perso i miei post, un attimo che arrivo. Eccolo qua. Voi non lo trovate il pulsante Promuovi? Vedete il pulsante Promuovi? Non c'è. Quindi dobbiamo per forza passare dal campaign manager di LinkedIn. A questo punto creiamo anche il business manager, che trovate in una delle puntate precedenti. così diamo tutta una serie di situazioni. Facciamo un remind all'interno dei nostri servizi. Come funziona? Molto semplice. Questo è il campaign manager della mia pagina. Ok? Lo vedete perché c'è il simbolico, c'è il logo, perché non esiste quello del profilo personale. Che cosa posso fare io? Allora, che cosa ho fatto? Anzi, mettiamola in questo modo. C'è anche Fabio, complice. Allora, facciamo intanto, creiamo una nuova campagna. Ok? Quindi vado a creare un... Qui c'è già un test che avevo già iniziato a creare. Ok? Vado a creare, per esempio, una campagna interesse. Anzi, creiamo la propria nuova, così si fa in tempo reale. Quindi ricordatevi, LinkedIn c'è il gruppo campagna, la campagna e l'annuncio. Mi chiedo un nome, io lo lascio come test, non entro nelle dinamiche per questioni di tempo. Mi chiede qual è l'obiettivo del mio gruppo. Ok? Io al momento ho messo interesse, cioè interesse significa che voglio aumentare l'interesse sul contenuto che andrò a promuovere. Poi abbiamo anche i collegamenti verso il sito. Sono varie le opzioni che troviamo. Scusate un attimo e torno un secondo indietro. Ok. È venuto freddo, devo aggiungere un legno al fuoco e torno. Ok. Le esigenze che abbiamo. Allora, quindi. Ok. Benissimo. Allora, abbiate pazienza un attimo che imposto il gruppo. Ok. Perfetto. Andiamo quindi. Vi stavo dicendo, si va a creare la campagna. Vado a impostare che tipo di obiettivo posso avere. Adesso vi ho messo interesse, però ricordate che possiamo metterci altre tipologie, possiamo metterci link verso il sito, possiamo fare cose dell'advertising. Io vi sconsiglio l'e-generation all'inizio perché rischiamo di avere dei costi molto alti. L'audience. L'audience l'andiamo a fare con le stesse tecniche di LinkedIn. Studiatela bene perché ci sono veramente tante possibilità. Ricordatevi che sull'advertising di LinkedIn non si lavora solo per interessi, ma si lavora per interessi. Ora puoi anche selezionare la singola azienda. Esatto. E travasarla su Bing. Questa cosa è stata molto interessante. Un'altra cosa molto interessante. Poi mi chiederai il tipo di annuncio. Io ho sempre usato questo perché, come consiglio, visto che dobbiamo andare a promuovere un contenuto del profilo personale, direi di stare il più possibile su quello che viene definito il native advertising, cioè fare un advertising che sembra un formato di un post di LinkedIn. e quindi io scelgo l'annuncio con singola immagine. Ok? O se avessi un video potrei raggiungere anche sul video. Però intanto mi baso su questo. Ci sono poi tutte le solite regole, i posizionamenti, i budget. Non entro adesso perché non è una puntata sull'advertising. Ok? Vado avanti e mi trovo nel dover promuovere. Eccomi qua. Sono nella sezione annunci. Io posso creare nuovi annunci. Se clicco avrò tutto un sistema classico dove metto il nome dell'annuncio, testo, eccetera. Attenzione! Posso farlo solo sulla company page. Creare un nuovo annuncio significa che questo annuncio non è nel feed, quindi è fuori da quello che sono i post. Non lo vedrà chi entra sulla pagina. Se invece vado su sfoglie contenuti esistenti, c'è un simpatico pulsantino che è qua, questo. Dipendente. Cosa significa? Che se io clicco su dipendente, sono dipendente di me stesso, sono dipendente di me stesso, vado a scegliere il mio profilo. E questi sono tutti i contenuti che io ho pubblicato sul mio profilo. Decido di sponsorizzare questo per qualche motivo X. Clicco su richiesta e mi arriverà, cioè arriverà il dipendente, in questo caso sono io e lo andiamo a vedere. Mi arriverà a me, vediamo se la trovo, allora, diamogli il tempo di arrivare. Comunque mi arriverà una mail con la richiesta dicendomi, guarda, l'azienda Massimo Vicky che ti sta chiedendo, a te Massimo Vicky la condivisione di un post. Vedete? Questo è il formato esatto del post del profilo personale. C'è addirittura anche la call to action, che si può impostare dai premium. Questa cosa qua la trovo molto carina anche poi per un'azienda più strutturata che avendo molti dipendenti... L'azienda più strutturata può lavorare sui dipendenti, però... Esatto, c'è un dipendente virtuoso che ti fa un bel contenuto. Nell'azienda strutturata è un'opzione. Per il libro professionista è l'unica alternativa per poter fare advertising sul profilo personale. A meno che non sia un libro professionista, un freelance bravissimo, che si ha curato la propria compa di page stratosferica. Ok? Allora, vi faccio vedere nel tempo che arriva la mail e ci mette un pochino, vi faccio vedere cosa è successo in una campagna reale che abbiamo già fatto. Allora, eccola qua. Questa l'abbiamo fatta per il corso che abbiamo fatto insieme a Fabio. Ok? Questo era l'annuncio che io sono andato a proporre. Ed è mio. Ok? Questo era il post che io sono andato a proporre. E come l'ho fatto? L'ho fatto nello stesso modo. Da qui ho cliccato. Lui in questo momento vedete me lo dà direttamente e questo è come veniva mostrato nel feed. Esattamente come è nell'organico. Chiaramente che cos'ho io? Ho i risultati di questo post di questo, scusate, di sponsorizzazione. Non ce l'ho nel nel feed normale. Ok? Se io clicco qui vedi statistiche mi dà le impression ma non me le distingue tra quelle che sono advertising e normali. Sempre dal campaign manager ok? Quindi dove mi trovavo precedentemente posso andare a vedere i dati esattamente come si fa con tutte le altre campagne. un attimo che sta caricando vediamo se la facciamo allora eccolo qua ok cioè questi li abbiamo ovviamente sponsorizzato per qualche giorno ma io ho esattamente tutti i dati. Questo era il target a cui volevo arrivare nel mio caso questo aveva fatto un post per arrivare ai liberi professionisti praticamente del mondo dei nostri colleghi e se voi andate a vedere trovate funzione lavorativa marketing media comunicazione business development eccetera se vado a vedere la qualifica consulente esperto di comunicazione marketing social media manager e se andate a vedere le dimensioni dell'azienda scusatevi le dimensioni dell'azienda ok un dipendente prevalentemente erano legato alle piccole e medie imprese infatti come vedete tende a salire e qui ho una serie di informazioni ma tutto questo alla fine quanto è costato perché qui c'è il problema del discorso eh ma Linkedin lo staccare allora noi abbiamo abbiamo speso volevamo speso 100 euro ci si è affermato 93 80 ringraziamo Linkedin per i 6 euro abbiamo avuto 5385 impression e 172 click ok questa è la cosa e aspetta ok scusatevi vi faccio vedere i dati esatti con un CTR del 3,19 quindi può essere alto basso questo non è mai un numero interessante ma abbiamo avuto un CPM di 17,42 euro cioè vuol dire noi abbiamo raggiunto 1000 professionisti in target con 17 euro e poco e tanto non entro in queste dinamiche che sono soggettive e ogni click che ci è costato 55 centesimi ora la domanda è 55 centesimi sono pochi o tanti per un professionista profilato per la tua attività e questa secondo me sono pochi cioè nel senso è una cifra assolutamente assolutamente cioè se consideri il livello di raffinatezza di targetizzazione Google Ads raramente ti permette di fare altrettanto o un altro social esatto fra l'altro adesso che è arrivata la mail vi faccio vedere che cosa vi arriva arriva questa Massimo Vicky Digital Studio vorrebbe sponsorizzare un tuo contenuto ok e tu ovviamente che cosa puoi fare si presume che accetterai no? così a grandi linee e questo è come verrà il il post sponsorizzato ok e questo cosa succede? mi sembra un'ottima soluzione per permetterti di continuare a lavorare sulla promozione del tuo personal brand anche attraverso l'advertising in realtà e sintetizziamo non ci da fare niente basta avere la company page dove noi dovremmo essere dipendenti quando si va nella scelta del contenuto da pubblicizzare ok è semplicemente necessario vediamo se lo ritrovo scusate faccio prima che fa tutti i giri quindi quando vado a promuovere il post è semplicemente è sufficiente che io vada nel mio campaign manager consiglio a questo punto di installare business manager per per un discorso di praticità trovate le istruzioni in uno dei nostri post precedenti i nostri video ok non fate altro che quando entrate nella campagna quindi creo per esempio una nuova campagna fate tutte le impostazioni che ci sono notorietà visite eccetera in questo caso magari metto visita al sito web per esempio così scopriamo una cosa fra un secondo impostate una data alla fine quello che deve essere eccetera magari metterci anche un budget ora io non lo faccio per un discorso di di velocità ok test diamogli un nome mi comporto esattamente come se fossi su linkedin vado a scegliere il mio pubblico di destinatario andando a prendere tutte le varie opzioni fra l'altro fra un secondo vi faccio vedere l'ultima cosa se no diventiamo troppo lunghi scegliete il tipo d'annuncio impostate dove c'è conversione eccetera come sempre e quando andate nella creazione del contenuto sfoglie contenuti esistenti e trovate la voce dipendente ok contenuto sponsorizzato pagina dipendente vedete che in questo momento non è selezionabile ok perché non è selezionabile perché non tutti i formati annuncio hanno questa possibilità ok quindi gli unici che ce l'hanno sono gli annunci di notorietà ok notorietà e interesse non visita il sito web se io metto interesse almeno per il momento poi sapete LinkedIn è un è una fuscina di contenuti va bene nel senso va bene ma c'è anche un senso scusate che LinkedIn dovrebbe essere ha una sua logica invece se andate qui andate a cliccare su sfoglie contenuti esistenti e vedete che adesso dipendente è selezionabile ok c'è un'altra cosa interessante che non ho ancora testato e che ve la do in anteprima nelle campagne esiste l'audience cioè posso creare l'audience delle mie campagne e c'è un post uno degli audience interessanti sono il retargeting da un annuncio e attenzione nell'annuncio ho anche quello che abbiamo ora qui trovate tutte le bozze test che abbiamo fatto oggi però vi assicuro che c'è anche troviamo anche quello eccolo qua forse ok posso fare il retargeting su chi ha visto e ha interagito questo annuncio che era il mio quindi attenzione qui può essere aperto un ragionamento strategico però mi conviene cioè pensate quanto può crescere il personal brand attraverso delle campagne strutturate in questo modo soprattutto se siete in una fase iniziale o in una fase di ristrutturazione del vostro personal brand e non avete una forte penetrazione nel vostro pubblico attraverso l'organico o se avete un profilo con una rete contatti che non è coerente con quelli che sono i vostri clienti magari avete ancora i vostri compagni in università magari avete ancora i colleghi cioè andatela a controllare se la rete la vostra rete di contatti il vostro network è coerente con gli obiettivi perché se non lo è o perché magari avete un prodotto servizio che va in una nicchia che non avete mai con cui non avete mai interagito non arriverà mai il vostro contenuto organico farà fatica questo può essere un modo per semplificarlo direi Fabio se non c'hai domande se abbiamo diciamo siamo andati un po' lunghi ma oggi se avete bisogno di informazioni ne possiamo parlare l'importante però ricordatevi che questo è un advertising linkedin quindi è necessario conoscere come funziona linkedin da parte advertising perché altrimenti diventa veramente un bagno di sangue come ho sentito dire da qualcuno configuratela sempre bene linkedin cercate di impostare sempre il budget di ogni gruppo gruppo campagna ci vedete un budget perché se no linkedin tende a portarvi budget giornalieri sempre più alti e rischi di perdere il controllo invece io metto un budget sul gruppo campagna indipendentemente degli annunci e sono sicuro che oltre quello non vado ok Fabio ti saluto ciao a tutti ciao a tutti ciao Massimo grazie a tutti